Vediamo che abbiamo definito esattamente in dove si sarà il lucido con zero totale e dove invece le lunghezze le vogliamo mantenere in questo modo. Definiamo ancora bene per non lasciare questi spuntoni che crescendo sarebbero veramente da palo della luce. Fanno l'antenna? Si, avrai due sacchi qui sul telefonino. Prendi a te con istria? Prendi anche tele-Ucraina e internet. Guardate, intercettare le telefonate altrui. Non ho nulla di sopra il mio telefono. Io sono il lucido, trasparente. Si, si. Sperate. Quanti capelli bianchi. Capita ma ciate da. qui adesso per un po' è risolto il problema dei capelli gatti ne converranno con me anche i loro signori e in caso di tintura per non essere schiavi delle tinte con una bella vasatura si risolve il problema all'analyse come la sua settione di cresco la macchinetta la situazione anche rilassante qui ci sarà Teresa la nostra bug woman di Artforum con queste cose tutti i giorni